Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, la loro casa da sogno a Portofino. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin formano una bella famiglia insieme ai loro figli. I due non si sono mai sposati, ma sono molto uniti. Nel 2022, Berlusconi ha acquistato una strabiliante villa a Portofino, dove la coppia ama trascorrere le vacanze. Si tratta di una villa di lusso, e molto bella per svariati motivi. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, la splendida villa San Sebastiano a Portofino. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin rappresentano una mara coppia del mondo dello spettacolo, molto riservata. I due si tengono lontani dalla cronaca rosa e hanno deciso di non sposarsi. Ad ogni modo, sono molto felici con i loro due figli e spesso si concedono delle fughe romantiche e delle vacanze. Soprattutto quando Silvia Toffanin non ha impegni televisivi e non deve più condurre verissimo, per lei è facile spostarsi insieme al compagno e ai figli. Nel 2022, Pier Silvio Berlusconi ha acquistato una villa mozzafiato a Portofino, dove anche quest'anno trascorrerà le vacanze insieme alla Toffanin. Il vicepresidente del gruppo Mediaset ha acquistato la dimora di lusso da Luca Bassani Antivari, erede di una nota famiglia che ha creato un marchio di prese elettriche. La casa acquistata da lui prende il nome di Villa San Sebastiano. Il nome è dovuto alla vicinanza con la cappella di San Sebastiano e, già prima dell'acquisto da parte di Pier Silvio Berlusconi, la dimora era una delle più belle e lussuose di Portofino, nota da tempo proprio per questo. Silvia Toffanin e Pier Silvio, in particolar modo quest'ultimo, sono particolarmente legati alla Liguria ed anche a Portofino. Da qui la scelta di comprare questa straordinaria abitazione per le vacanze. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, le dimensioni e la vista mozzafiato della villa. La magnifica villa di Portofino in cui anche quest'anno i due trascorreranno le vacanze, ha una dimensione di tutto rispetto. Infatti è composta da 1300 metri quadri. Nonostante le dimensioni, si tratta di una villa che garantisce un'elevata privacy, essendo circondata da un uliveto, un vigneto e frutteto. All'interno ci sono nove camere, sette bagni ed una grande piscina in cui gli abitanti della casa possono trascorrere il loro tempo durante le vacanze estive. La villa è stata costruita attorno al 1500 ed ha la particolarità di una vista mozzafiato, che si affaccia sul Golfo del Tigullio. Gaia Aulenti ha modificato gli interni negli anni passati, ma ancora oggi la villa gode di una chicca particolare. Infatti è stata progettata in modo tale che questa vista sia visibile da ogni singola finestra della casa, così da offrire il massimo comfort a tutti coloro che si trovano all'interno dell'abitazione. Ovviamente Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin vivono le loro vacanze nella massima riservatezza, e quindi non condividono nemmeno scatti sui social delle loro vacanze di lusso. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questa villa a Portofino e che idee avete in merito? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione!